Io anche quando ho fatto un concorso internazionale che fortunatamente vinsi anni fa, c'era un direttore dell'Accademia dell'Aquila che diceva Monticelli, lei fa un tipo di mosaico strano, lei perché me lo votò? Perché non sono stato capace di capirlo, se lei me lo spiega, ho detto io non posso spiegarlo perché è un mosaico emozionale Non c'è un criterio, quindi se qualcosa ti dà un'emozione, quella già è una risposta Io la penso così Il mosaico più bello che ti ricordi di aver fatto, che ti ha dato anche un'emozione particolare? Penso che il mosaico più bello lo devo ancora fare, ma quello che mi ha dato tanto studio e quando feci il giudizio universale, tutta la Cappella Sistina, feci proprio il particolare del giudizio universale dove 175 personaggi rinchiusi in un millimetro di lavorazione, lì ci fu un insegnamento veramente enorme di anatomia Otto mesi mi dicevi che era un lavorone E lì ebbi coraggio di provarlo a fare, perché là si trattava di azzardare un'immagine così famosa in tutto il mondo Una sfida direi proprio E mi prendo un solo onore di essere stato il primo a eseguirlo, questo sì, con il marmo E poi promise a me stesso di non rifarlo più Ma forse lo rifarò Forse lo rifarò Però quello è stato sì, un impegno mentale, fisico in tutti i sensi E questo ovviamente mi portò a poter studiare altri mosaici Però ecco, questa è stata la più personale avventura personale che ho fatto Un'avventura, il mosaico è un po' come un'avventura Un'avventura, esatto Tutti i giorni un'avventura Ah, per carità, certo Tutti i giorni Però molti mi dicono che sono fortunato di fare ciò che mi piace Ma cosa c'è dietro la fortuna? Tanto, tanto sacrificio Tanta dedizione Ah, certo Però se ci sono delle emozioni che riesco a trasmettere Quello è il maggior compenso E rimangono fissate in maniera ben solida Sì, sì Nei tuoi lavori Sì, sì, questa è veramente una fortuna Io dico sempre che ognuno di noi dovrebbe lasciare una sola traccia Della sua vita, no? E io probabilmente ho scelto una traccia indelebile Ma non perché la faccio io Ma perché la pietra è questo Questo ti dà il mosaico Questa è la più bella cosa Va bene, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti